Trinov, l'ozione anticaduta donna, è un innovativo trattamento tricologico contro la caduta dei capelli nella donna. È indicata per contrastare la perdita e il diradamento dei capelli, per favorire il naturale processo di ricrescita e per rinforzare i capelli deboli e fragili. Si tratta di una formula brevettata costituita da acido di omogamma linolenico che migliora il microcircolo e il flusso di sangue e il bulbo pilifero, è cuolo che ostacola la caduta dei capelli e è l'ecarnitina ad azione energizzante. Questi tre principi attivi sono protetti e veicolati da liposomi fosfolipidici che ne permettono un rilascio graduale e costante. Come si usa? Applicare un ml di prodotto sulla zona da trattare, massaggiare delicatamente con le dita e poi estendere il massaggio su tutto il cuoio capelluto. Non risciacquare e ripetere ogni giorno per almeno sei mesi. Avvertenze, evitare il contatto con gli occhi e non usare in caso di allergie note ad uno dei componenti.